Il tempo di aerosportarsi con un ampio parco barro dove molti cittadini si erano con un gioco amici a quattro zambie, che lo stesso è visto in una fontanella che rappresenta un servizio indispensabile per questo luogo. Avendo ricevuto dei dammi interi da parte dei cittadini per questa cadenza, chiedo all'administrazione che in collaborazione con la città interna è dotabile di arco, spazio verde e non l'asso di tempo di prezzo. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio la consigliera di Manuela Garconi che si è fatta portavoce per la richiesta di alcuni cittadini e abbiamo già dato lontano ai uffici di provvedere a richiedere l'approcodante dell'attivazione dell'area cani, di sgampamento cani, di canello sport e questo naturalmente è il caso di risposta positiva della CINF, in cui mettiamo in concordi, a questa volta, una serie di procedure, naturalmente riguardante l'attivazione dei fondi, sia per l'attivazione dell'acquisto in opera, sia per l'acquisto della fontanella e per cui immaginiamo che in tempi in prezzo si possa essere realizzato e il passego di evoluzione prima o la città. Grazie.